dunque la nostra azienda è ovviamente votata l'accoglienza essendo un bnb è nata dieci anni fa da una passione a lungo inseguita tra da me mia moglie e l'abbiamo realizzata trovando questa antica borgata ligure che ci ha subito fatto innamorare abbiamo iniziato appunto quasi per gioco ma abbiamo riscontrato un grandissimo apprezzamento e questo ci ha spinto ad impegnarci sempre di più e cercare di fare meglio migliorarci e diventare insomma un'azienda importante nel settore dell'ospitalità al momento non abbiamo aumentato il personale il finanziamento sono stati in realtà due finanziamenti da 40 mila euro ciascuno uno dedicato alle opere strutturali un altro a quelle impiantistiche riguardo le impiantistiche abbiamo fatto implementazioni domotiche molto importanti votate anche risparmio energetico e all'ottimizzazione mentre quelle strutturali ci hanno consentito di ricostruire muri crollati fare la strada di accesso col parcheggio privato e poi altri piccoli tra virgolette interventi di miglioramento anche intorno alla piscina per il risparmio idrico e varie ed eventuali come si suol dire dunque progetti futuri chiaramente sono quelli di lavorare sempre più e meglio in realtà abbiamo la volontà di espandere la capacità ricettiva della nostra azienda costruendo delle nuove strutture per ospitare i nostri clienti che prevalentemente vengono dal nord Europa e apprezzano moltissimo questa parte della Liguria che non è proprio sul mare anche se siamo a dieci minuti ma siamo in un ambiente verde di campagna molto caratteristica in effetti